Adesso ragazzi è mezzanotte e tre, è l'ora del direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica! Siamo questa settimana... Ma tu sei andato a votare oggi? Eh? Non ho capito. Sei andato a votare oggi? Si votava domenica scorsa, no? Oggi non sei andato. Eh ma no, si votava... Ma che andavo a fare? E questa è l'Italia. Ma che andavo a fare? Ma era domenica scorsa. Vergogna, vabbè. Ma che vergogna? La festa della donna l'hai festeggiata? Ma che c'è? Che c'è la festa della donna? Un'altra cosa. Va bene, va bene. Io non sono mica donna io. Questa settimana come gadget regaliamo un cd antistress. Oh, chi è? Quando tu hai voglia di startene tranquillo, tranquillino, non vuoi sentire niente, non vuoi sentire nessuno, senti i rumori della natura. Ti vuoi distendere, metti questo cd. Cosa sono i rumori della natura? È vuoto, tu lo metti, non si sente in casa. Ti rilassa, ti rilassa. Per rilassarsi. Questo è il numero di questa settimana. Se volete i numeri arretrati, copie arretrati, il telefone, chiamate, per avere le... 745126, ripeto, 44115. Affisso 02. Affisso 02. Ma è uguale, è uguale. Oggi 11 marzo... Ma non è uguale, però affisso e prefisso non è uguale. Ma si è scritto qua. Ah beh, allora... Oggi 11 marzo, San Pietrino della Zuppa. Mai sentito. Protettori di quelli che dicono, oh mi dispiace, pensavo che fosse oggi, mi è sfuggito dalla mente, ero convinto che l'appuntamento fosse oggi, invece era domani. Cioè c'è un santo che protegge quelli che dicono, mi dispiace. Oggi evitate spese inutili. Per esempio? Che vi comprate a fare, per esempio, 500 spillatrici, 500 tergicristalli, evitate, compratevene una. Ma chi li compra i 500 tergicristalli? Nel paginone centrale di questa settimana c'è Stefania Sandrelli, col pancione, in esclusiva, dichiara, aspetto un figlio da Gino Paoli. Ma scusa, ma è per forza non vedi? Gino, vorremmo una femminuccia. Se così fosse la chiameremo Amanda. Sì, ho capito. Secondo me sarà esaudita, però per forza non... ma è 50 anni. Non è che abbiamo... ogni tanto ricicliamo qualche vecchia fotografia. Ho capito, però così non venderai mai. Abbiamo la pagina dei libri, pagina dei libri che si parla ancora del libro di Fabio. Oh, complimenti, sempre prima in classifica, che grande! Grazie, grazie. E consigliamo nuovi libri. Il primo libro è Corso di recitazione, per presepi viventi. Come si recita nella parte del... Il secondo libro... Il secondo libro è Don Quixote dà la mancia. Terzo libro, autobiografia sbagliata di Pippo Bauto. E com'è? Com'è a fare se era un'autobiografia sbagliata? L'ha scritto uno che non è informatissimo. Ma autobiografia ma che l'ha scritta lui? L'autore... Pippo Bauto, guarda, nasce l'1111 a Militello in Val Catania. Ma non è vero? No, è vero. Val Catania? Sì, provincia di Palermo però c'è scritto. Non può essere in Catania. Com'è provincia di Palermo? C'è scritto... è sbagliata. Dice che è sbagliata. Il 2222 si trasferisce assieme alla famiglia, composta da un papà, due mamme, un zio, un fratellino piccolo, uno più grande e uno più medio. Ma non è vero niente. Si trasferiscono a Crotone, dopo due ore si trasferiscono a Bangkok. Ti risulta Pippo? Ma no, è tutta sbagliata. A Bangkok va a vivere assieme al fratello più medio, Enza Presti Filippi, si chiama, Enza Presti Filippi si chiama, è donna, discorso è lungo. I due vivono da soli in un monovano di cinque stanze, in un appartamento a Bangkok, via Giuseppe Bambieri, 100-110. A Bangkok c'è via Giuseppe Bambieri? A Bangkok va a scuola e come compagno di Bangkok, come... No, no, compagno di Bangkok, no ma è capolavoro, è capolavoro, un orologo anche lei deve applaudire. Il suo compagno di Bangkok è Mike Bongiorno, allora dodicenne, i due diventano amici, scherzano a vestirsi da donna, a mettersi tacchi a spillo e si promettono da grande. Mike Bongiorno dice, io da grande voglio fare l'allegria. Baudo dice, io da grande voglio fare le promozioni dei materassi come Giorgio Mastro. Lo dice Baudo, questa è l'autobiografia tutta sbagliata. Sì, è sbagliata. Nel 1960 Pippo canta con il quartetto cedra. Ma non è mai successo. Fa assieme allora cento concerti in tutta Italia, ma siccome il quartetto cedra non lo vogliono, ad ogni concerto Baudo paga il biglietto, in prima fila si mette a suonare la fisarmonica. Il suo nome è Donna Rosa. Ma non è così. Viene arrestato nel 1981. Chi? Lui viene arrestato per disturbo alla quiete pubblica, invasione di campo, violazione di domicilio, offesa a pubblico ufficiale, menisco, donna rosa, schiamazzi notturni e fisarmonica rubata. Nel marzo del 2018, esattamente l'11 marzo 2018, oggi, è scritto qua, ospite di Fazio, ha tanto tempo che fa, ospite, riceve un grande applauso dal pubblico, si alza, il pubblico si alza e gli fa una station wagon. Ma questa è la station wagon. Però questa la facciamo davvero, Pippo! Bravo Pippo! Viva! Mi è emozionato, mi sono emozionato. No, perché fra le tante cose, l'aver accettato questa sera di essere con noi, come amico, in mezzo a degli amici, è una cosa che sinceramente ci ha molto colpito e ci fa molto piacere. Grazie, grazie, grazie. Sono scritte pure qua, queste parole. Uguali, uguali. Oh, sport. Oh, allora, sport, concludiamo allora. Sport, calcio. Il Montecatini calcio dalla serie D retrocede e va nella pallavolo. Rai 1, Rai 1, dopo anni, anni, anni di petizione, appelli, sollecitazioni richieste da parte del pubblico, riparte la tv dei ragazzi. Solo che i ragazzi che l'hanno richiesta adesso ci hanno dai 60 agli 80 anni. Altre notizie su Novella Bella. Nino Frassica. Bravo, bravo. Bravo.